esatto vai un bel quadrato un bel quadrato ancora lì devi mangiare devi pigiare verso il basso quella levetta a sinistra non a sinistra verso il basso giù se no crossi questo è centrocampo a chi sta io aiuto ancora mannaggiami serio mi sa che non ce l'ha da più il mezzo me lo devo riprovare me lo devo riprovare vai iuto aspetto te vai crossa ma non crossi ma basta chi non ha crossato in mezzo vada aiuto che vede il terzino destro guardate guardate ma che visione di gioco guarda 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 il taglio in mezzo guarda il taglio in mezzo ma dove va vai a sta roba dai che l'ha voluta dai 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 vai il tondo ah il tondo il tondo Ma no, ma chi la parte le mette, cannaggia, ma siamo in diretta, cannaggia, la miseria, no, aiuto, c'è la coscienza, eh, è sbagliato, ma questo, passatevi un po' di indubbia così i giocatori corrono un po' di più, vediamo, io direi di andare tutto sulla sinistra, poi, assolutamente, Sì, sì, fate come volete, poi, non vi lamentate, poi, esatto, cioè, dai, vai, guarda come apre la faccia, ahia, me l'hai preso proprio in faccia, proprio, sembra un pakistano, ma scusa, perché, ma perché l'hai fatto nero, scusa, non è, è thailo, thailo pakistano, thailandese, pakistano, è nato da mamma pakistana e padre thailandese, Poi era vissuto in Giappone, si è naturalizzato il giapponese Fai tirare Andrea, ascoltami Premi ricerchi e basta Premi ricerchi e non far niente, dai una tacchetta e basta Eh, grande aiuto, e va sotto la curva a prendersi un chilo di mozzarella La confezione quella maxi, quella proprio, e tutti esultano, fanno finta di esultare per lui, grandi Il 3 giugno, alle 23 e 55 minuti, arriva il primo gol di Andrea, super, il primo gol di Juto Corona in sogno Eh, va, anticipo alla desa Icce Ah, direi che c'è il centrocampista, praticamente Lo chiamavano la piovra pure, ogni tanto, attenzione, ancora, anche se è alto un metro e quaranta L'unico problema che arrivo, l'unico problema, sai qual è, che quando salto arrivo alla zona ascelle degli avversari ed è un problema Sì Sinistro Vabbè Ancora Attenzione Perché qua si rischia una cosa mai successa La prima doppietta No, vabbè dai La doppietta Allora All'angolino Basso a destra, in basso a destra, mira E premi una volta tondo Ho paura Ho paura Ho sbagliato Ho sbagliato Anzi che non l'ha tirato a destra Ragazzi, che esecuzione perfetta Ragazzi, ma questo non è un terzino, questo è un tornado Ragazzi, di che stiamo parlando E poi va sotto la curva dei fratelli Curciarello per andare a prendersi la sua mozzarella La sua confezione Ma non è il suo caso di intervento in copertura Aiuto che va avanti e indietro Mi manca soltanto Dove sei aiuto? Corri, corri Ando, corri, corri I venditori I venditori I venditori della Folletto I venditori della Folletto I venditori della Folletto che vanno avanti e indietro, aiuto Perché me l'hai tirato Ha tirato ma Non mi ricordavo il pulsante Ho premuto una scena Attenzione Attenzione Un altro rigore dai La rifletta Dai dai il pallone Ascolta Andrea Ascolta bene Eh dimmi In basso a finistra Allora ascolta bene Ma non so come Ma una cosa importantissima Tu premi i cerchio a sentimento Andre non gli ascoltare No 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 In basso Andre Tiratondo Tec Oh cazzo Nooo Iniezione Ma non so perché non me l'ha Non me l'ha angolato Io però venuto Attenzione ci provo Eh fuma la tripletta Niente Sì Dai Nooo Ho perso una buona occasione Aiuto sei veramente guarda Inguardabile Comunque questi erano scarsetti Passaggio intercettante Sì è abbastanza se lo dice Andrea ecco è grave no Andre Andre non andare in difesa sei attaccante torna di sei davanti tranquillo vai avanti vai avanti corri devi fare una sponda e dai eh prima prima perché poi ero per tutti eh ma Paolo gli frega le posizioni vittoria del titolo con gol decisivo di Andre chi l'avrebbe mai detto è grande che tu ma no no Andre rimani là rimani su aiuto aiuto in mezzo aiuto in mezzo aiuto in mezzo aiuto in mezzo no oh porca miseria è andata a prendere quel portiere e portatemelo qua davanti gli mancavano quei 5 centimetri per arrivare a cemento esatto ho preso la scala mi sono messo sulla scala e ho fatto il colpo di te dai questa è un'ingiustizia vediamo comunque il pallone è venuto eh mamma mia incredibile che partita che stranamente è qua